Dare il giusto ruolo ad ogni iscritto è importante, dare a tutti la parola. Così, nell'ultima riunione di consiglio del 16 gennaio scorso, è stata deliberata all'unanimità la prima assemblea programmatica dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto. Un'assemblea nel corso della quale non si è discusso di bilanci, di quote di iscrizione e di altri aspetti fondamentali ed ordinari, ma vi è stata la condivisione di proposte, idee, riflessioni e linee operative da attuare per la professione e per il territorio che li vede protagonisti nella vita quotidiana. Un'occasione dunque per dare voce a tutti, in modo che chiunque possa proporre progettualità per l'Ordine stesso. L'assemblea programmatica vuole essere un'assemblea diversa dalla solita assemblea che gli ordini si trovano ad affrontare per discutere e approvare magari solo il semplice bilancio o una quota di iscrizione. Quindi abbiamo deciso di dedicare un momento esclusivamente a quella che è la discussione, a quella che è la progettualità che ciascuno di noi può portare al nostro ordine. Un momento per fare sintesi e passare gli appunti al Consiglio affinché diventino la traccia da seguire nel bienio 2023-2024 con il fondamentale supporto delle commissioni. In Italia è la prima assemblea tenuta da un ordine provinciale, un'assemblea programmatica che serve per organizzare gli atti e i programmi di un ordine. E quindi credo che sia importante la mia presenza per testimoniare la vicinanza a un'azione veramente utile a tutti gli iscritti. L'impegno è di rendere fisso l'appuntamento di anno in anno.